buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 6 febbraio si ricorda san paolo micchi il nome paolo deriva dall'aggettivo latino paulus che significa piccolo giovane dice il proverbio non dire che febbraio è breve che più degli altri mesi avrai la neve sono nati oggi ugo foscolo ronald reagan bob marley il 6 febbraio 1808 viene inaugurata per volontà napoleonica la borsa valori di milano ancora oggi a milano a sede la borsa italiana la società che si occupa della gestione del funzionamento del mercato finanziario nazionale il 6 febbraio del 1927 la società americana ami mette in vendita il primo jukebox vero e proprio dotato di un amplificatore elettronico infine il 6 febbraio 1952 elisabetta seconda diventa regina del regno unito alla morte del padre giorgio sesto nel 2012 la regina d'inghilterra ha celebrato il giubileo di diamante 60 anni di regno italo calvino ha detto la lettura è un atto necessariamente individuale molto più dello scrivere arrivederci da barbanera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia